Maxi blizza antidroga alle prime luci dell'alba ad Arezzo, una aretata che ha portato all'arresto di otto richiedenti asilo nigeriani. Ottanta i carabinieri del comando provinciale Aretino impegnati da questa mattina in azione anche le unità cinofile di Firenze. Le indagini portate avanti dal nucleo investigativo erano partite a seguito della rissa scoppiata nell'agosto 2017 a Campodimarte, nella quale si erano affrontati a colpi di bottiglie e bastoni decine di persone, tutte di origine nigeriana e gambiana. Alla base del violento episodio ci sarebbe stato un regolamento di conti relativo alla spartizione delle piazze dello spaccio. Mesi di attività investigative con servizi di osservazione, controllo e pedinamenti hanno portato all'individuazione dei yacht pusher che gravitavano nelle zone di Via Romana, Indicatore, Saione ed infine Tortaia. Almeno 4.000 le cessioni documentate dai militari nel corso delle indagini, numerosi anche sequestri di sostanza stupefacente, in particolar modo cocaina ed eroina nel corso di questi mesi. La complessa attività d'indagine ha così portato alle otto ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla procura di Arezzo nei confronti di altrettanti soggetti che, secondo gli investigatori, in concorso e in modo sistematico ottenevano consistenti proventi dall'attività di spaccio, denaro poi trasferito velocemente all'estero tramite money transfer. Questa mattina alle prime luci dell'alba è così scattato il blitz in alcuni appartamenti di Via San Laurentino, Via Romana, Indicatore ed infine Monterchi. Nel corso della retate militari hanno anche trovato 30 grammi di eroina e cocaina già suddivisa in dosi. Sono così finiti in manette per detenzione e fini di spaccio di sostanze superfacenti otto richiedenti asilo, tutti di nazionalità nigeriana ed età compresa tra i 21 e 30 anni. Dalle indagini dei militari è emerso anche che all'interno della banda ognuno dei componenti rivestiva un ruolo ben definito. Uno degli arrestati, inoltre, sarebbe il protagonista dell'aggressione che si era consumata a Sayone lo scorso settembre ai danni di una regista televisiva retina che in quel momento l'aveva ripreso mentre stava spacciando. Gli arrestati a disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati portati nel carcere retino di San Benedetto in attesa dell'udienza di convalida.